Il tema del Cannondiario Storico 2023 dell'Arma dei Carabinieri è la natura e la tutela ambientale. Un tema importantissimo, di stretta attualità, poiché l'ambiente rappresenta una preziosa risorsa da salvaguardare, soprattutto per le generazioni future. Come sapete, quest'anno c'è stata anche un'importante modifica della nostra Costituzione, per cui la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, sono diventati principi fondamentali della nostra Costituzione, e quindi l'Arma ha voluto dedicare quest'anno il calendario storico, come diceva lei, una pubblicazione ormai popolare edita dal 1929, appunto alla natura e alla tutela ambientale. Sono passate alcune settimane dal suo insediamento al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, ha avuto modo ancora una volta, avrà modo nei prossimi giorni, nei prossimi settimane, di conoscere meglio il territorio. Insomma, a prescindere quello che sta accadendo un po' nel centro storico, che un mini bilancio è possibile già fare, o che idea viene fuori? Ma in queste prime settimane ho girato tanto per la provincia di Benevento, e posso dire che, confermare che la provincia è sicuramente molto tranquilla dal punto di vista dell'ordine della sicurezza pubblica, vive una situazione, ripeto, molto confortevole dal punto di vista della sicurezza pubblica, nonostante gli episodi che ha citato lei e degli ultimi giorni nel centro storico del capoluogo, come alcuni episodi di furti, truffe in danno degli anziani che si verificano, ma, ripeto, è una situazione assolutamente sotto controllo, per la quale comunque non abbasseremo mai la guardia, e anche a proposito degli ultimi episodi, come avete già saputo da parte della Prefettura, c'è stato un comitato nei giorni scorsi, il signor Prefetto ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri e di tutte le forze di polizia, con le quali c'è uno stretto coordinamento, e grazie a questi servizi noi consentiremo ai giovani di divertirsi, serenamente e tranquillamente, non tralasciando quegli episodi, quei segnali che sicuramente minano un po' la tranquillità dei cittadini, ma per i quali stiamo lavorando in sinergia con tutte le altre forze di polizia.